Questo video, quattro potenti trucchi che ti rendono irresistibile agli occhi di una donna. È importante sottolineare che non esistono formule magiche, che non esiste una formula magica per dire sarà irresistibile al 100%, sarà irresistibile al 100%, al 1000%, al 2000% agli occhi di una donna. Questo ovviamente devi tenerlo presente, però ci sono delle cose che possono essere molto utili e anche se non sono delle formule segrete danno dei vantaggi. La chiave per stabilire una connessione autentica e significativa è basata su alcuni aspetti fondamentali. Il primo è la sicurezza e la fiducia. Dimostrarti uomo sicuro di te, nelle tue capacità, è una caratteristica estremamente attraente. La sicurezza in te stesso, come uomo sicuro di te, trasmette una sensazione di stabilità e le donne sono attratte da questo tipo di uomo perché lo vedono come un uomo alfa, un maschio alfa. E poi la capacità di empatia, di capire le sue emozioni, farle tirare fuori le emozioni ascoltandola, creando il fenomeno effetto transfert, per cui mostrare empatia, ascoltare attentamente una donna è una qualità veramente molto apprezzata ed essere in grado di mettersi nei suoi panni, comprendere le sue emozioni, farle tirare fuori, la infertizza. È importante questo perché crea una connessione significativa molto rapidamente. E poi il terzo punto da non trascurare è il senso dell'umorismo. L'umorismo sano e appropriato è una grande risorsa per creare un legame forte, stabile con una donna. Essere in grado di farla ridere e condividere momenti piacevoli è un modo efficace per creare un rapporto. Quindi impara a raccontare storielle, bazzellette, essere ironico, farla ridere. Ricordati sempre il detto donna che ride, mutanda che cala. E poi il quarto punto è farti vedere come un uomo con ambizioni, passioni e interessi. Perché anche questo ti farà percepire come maschio alfa, avere passioni, interessi personali, essere ambizioso, senza vantarsi, ma lei deve vederlo dal tuo comportamento, dal tuo modo di fare, trasmette energia positiva e coinvolge molto, molto rapidamente le donne. Ovviamente devi fare tutto mantenendo il distacco del risultato. Il distacco del risultato è fondamentale perché se tu ti accanisci su una donna che poi magari non va bene, perdi solo del tempo. Quindi, in scioltezza, easy! Bene, per questo video è tutto. Metti un like se ti è piaciuto e condividilo con i tuoi amici. Ti ricordo di iscriverti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video.